La diocesi piange Don Lino del Favero, è morto venerdì pomeriggio presso la casa di riposo di Meano, il cappellano della grotta appellativo che richiama le sue innumerevoli visite a Lourdes come accompagnatore dell'Unitalsi. Don Lino era nato a Valle di Cadore il 16 gennaio 1941, frequentò il seminario di Feltre e poi quello di Belluno, fino a ricevere l'ordinazione presbiterale il 28 giugno 1965 dalle mani del vescovo Gioacchino Muccini. Il suo primo incarico come vicario cooperatore lo visse a Calalzo dal 65 al 69, fu per un solo anno a Santo Stefano di Cadore con lo stesso incarico e quindi a Limana dal 1969 al 1971, quindi divenne parroco di Padola, poi di Calalzo di Cadore, passò poi dieci anni a Farra d'Alpago fino al 2005, cui si aggiunse anche la parrocchia di Santa Croce del Lago, da ultimo fu arciprete di Pieve d'Alpago e vicario foraneo dell'Alpago dal 2005 al 2017. Dal 1995 al 2020 fu assistente dell'Unitalsi di Belluno Feltre dopo essersi ritirato dal Ministero di Parroco. Ha svolto per un breve periodo il compito di confessore in cattedrale a Belluno. Alcuni anni fa per motivi di salute Don Lino era stato accolto nella casa di riposo di Meano, dove, fin quando la salute glielo ha permesso, è stato presenza di riferimento spirituale. La diocesi, si legge in una nota, lo ricorda con riconoscenza per il suo lungo servizio pastorale e anche perché diverse vocazioni al presbiterato sono maturate nelle parrocchie, dove egli ha svolto il servizio. Inoltre un buon numero di seminaristi lo ha conosciuto nelle prime esperienze pastorali durante gli anni della formazione. In ricordo di Don Lino, lunedì 16 maggio alle ore 20 e 30, ci sarà la recita del Rosario presso il Santuario del Nevegal. I funerali saranno celebrati in cattedrale a Belluno mercoledì 18 maggio alle ore 15, seguirà la sepoltura nel cimitero di Valle di Cadore.